Buonissima soddisfazione e come ho detto poc'anzi ringrazio Luca per il lavoro svolto prima perché mi ha permesso di partire da una base buona alla quale ho aggiunto le mie idee, la mia mentalità e il mio modo di vedere il calcio. I ragazzi mi stanno seguendo e quindi sono felice, rigiro tutti i piccoli record che ti hai detto a loro, quella parola che ho usato io, noi siamo affamati, affamati in tutti i sensi e questa mentalità è quella che ci portiamo in settimana e che ci permetterà di decidere insieme qual è il prossimo obiettivo perché come dicevo prima scherzando io le idee sono molto chiare, so cosa voglio e so come ottenerlo. I ragazzi devono condividere questo aspetto qui perché non ha niente senso ma sono convinto e mi rispondo in anticipo che saranno ancora più affamati.